Vai! Cosa si fa? Ma lo devi dire a te? Eh, come devo dirlo io? Dove andiamo dopo? Si va in sala prova A fare? Si fa saltare l'alba dietro Ah ecco No, non c'è un parlato Non c'è un parlato Non c'è un parlato Guarda che roba Cosa mandi dietro? Guarda per te Ci sono tutte le storie C'è un po' target C'è un po' target Un po' target Andiamo a fare dappertutto Le stanze Che cazzo hai? Vado a giocare Vai da fuori Vini fuori Viva 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 Grazie a tutti.